ciao amici di pro mirrorless allora un'altra riflessione sempre analizzando come dire un po ritroso alcuni modelli mirrorless che sono tra l'altro ancora sul mercato ancora vengono venduti e avete letto dal titolo questa volta parliamo della nikon z6 allora non è una recensione ve lo ripeto così come ho fatto per l'h1 non è una recensione quello della questo video non è una recensione sulla z6 è un'analisi un po sul perché di fatto la z6 che io ritengo essere una fotocamera veramente ottima veramente veramente valida non ha avuto il successo di mercato che a mio avviso merita adesso cominciano a riprendersi un po le vendite della z6 ma c'è stato un momento all'inizio ha venduto tutto sommato benino poi si è praticamente piantate poi è ritornata diciamo un po sta ritornando un pochino su come come vendite però di certo è una macchina ragazzi che se uno guarda le caratteristiche cioè meriterebbe molto di più in termini di vendita eppure diciamo non ha sbancato non ha spopolato all'interno del mercato fotografico e tra l'altro nemmeno tra gli stessi iconisti allora così ho voluto ci ho riflettuto ho provato a ipotizzare alcune ragioni interamente sentendo anche altre altre persone negozianti insomma così confrontandomi con le persone che conosco che sono nel mercato nel mondo del mercato fotografico e che anche loro sono mi hanno dato la loro idea allora io vi dico quando venne presentata la z6 insieme a simone e a roberto fumo un pochino onestamente un po caustici forse anche prematuramente giudicamo in maniera un po negativa la z6 non tanto perché è comunque capimmo che era un modello valido che probabilmente c'era molto lo zampino di sony dietro alla tecnologia proposta da da nikon però oggettivamente ragazzi c'erano delle cose che ci lasciavano per presso e che avremmo e che temevamo che avessero influito sulle vendite in effetti non c'eravamo sbagliati effettivamente hanno inciso sulle sulle vendite poi abbiamo provato la macchina abbiamo fatto anche la recensione provamo la z7 per dire a dire la verità io ho usato la z6 poi successivamente e e devo dire che sia a me che a roberto ci piacque veramente tanto onestamente con tutta sincerità vi dico che se il sistema diciamo nikon z fosse più maturo come ottiche come corpi macchina eccetera eccetera probabilmente io avrei preso la nikon z una z6 come come macchina per i miei lavori per le mie fotografie è una macchina che veramente mi piace tantissimo sia a me che che a roberto però perché in sostanza mia che cosa che mi ha frenato e che probabilmente in qualche modo ha frenato anche tanti altri potenziali acquirenti allora una delle prime cose è stato sono stati i supporti di memoria mi riferisco sapete che c'è un solo slot punto numero uno e ancor peggio c'è l'xqd io come ho detto non ho mai biasimato la scelta tecnica dell'xqd che oggettivamente il supporto più stabile permette una partizione è anche più veloce ma in supporto valido quello che io critico è che se io oggi ho 10 15 schede sd da 64 giga di ultimissima generazione che comunque costano c'è l'acquisto del supporto di memoria a una spesa importante doverlo praticamente cambiare e passare l'xqd che tra l'altro sono molto costose cioè vuol dire che oltre al prezzo della fotocamera e delle ottiche che devo acquistare no per poter utilizzare la fotocamera ci devo mettere altre due trecento quattrocento euro di schede mi sembrerà tante ma purtroppo è così ora io ne sto facendo ne sto pensando un uso anche professionale perché in fondo la z6 è un prodotto di fascia alta no quindi anche destinato al professionista e il professionista non è che può comprare una schedina xqd e s apposto cioè un professionista deve comprare più supporti di memoria perché magari a doppie date eccetera eccetera e quindi al costo avrei dovuto aggiungere 3 400 euro per i supporti di memoria e questo onestamente è stato sicuramente un deterrente così come un solo slot ragazzi io ormai sono abituato a fare il backup del lavoro perché purtroppo col digitale è vero sono come dire situazioni remote ma può succedere che per qualche motivo ti si rovini la scheda ci sono dei problemi e io voglio star tranquillo quindi sono abituato a fare due diciamo fare il backup su due schede uno dice ma si è sempre fatto anche con un rullino e uno aveva solo un rullino sì ragazzi è normale cioè se andava anche con le ruote di di fatte di pietra ho capito ma il mondo va avanti cioè fondamentalmente due slot sono più comodi sicuramente di uno quindi sicuramente questo è stato un deterrente questo ve lo posso dire perché ho parlato con diversi professionisti eccetera e questo è stato un elemento che tutti quanti hanno valutato nel nel pensare di acquistare o meno insomma la fotocamera l'altra cosa è che vi ricordo che la z6 e z7 soprattutto la z6 si sono si sono confrontate e si confrontano ancora oggi con due best seller nel mondo del mirrorless la sony a7 3 e la sony a7 r3 oggi c'è la 4 vabbè ma fondamentalmente all'epoca c'era la 3 quindi si sono confrontati con due prodotti che avevano caratteristiche incredibili autofocus resa d'alti iso gamma dinamica avevano caratteristiche eccezionali a tutto tondo anche in ambito video insomma caratteristiche molto valide eccezionali forse troppo ma molto molto valide la z6 si è vero che ha caratteristiche analoghe così come la z7 in cui in alcuni punti forse anche migliori in altri punti un pochino peggiore ma rimane il fatto che comunque nikon si è presentata con un sistema assolutamente immaturo immaturo almeno in termini di ottiche e ti confronti con il leader del mercato che tra l'altro è colui che probabilmente ti dà la tecnologia e gli utenti questo lo capiscono quindi dicono ok fondamentalmente sony avanti se te la da te la tecnologia vuol dire che sony è avanti e ti confronti con un modello non maturo come sistema quantomeno a un prezzo superiore e questo non può funzionare ragazzi non funziona soprattutto se ci devi mettere appunto 300 400 euro massimo di insomma di supporto di memoria quindi secondo me anche questo caso la presenza di sony della 7 3 della 7 r 3 è stata sicuramente un deterrente paradossalmente ragazzi questo ve lo dico perché lo so con certezza al momento in cui sta rappresentata la z6 e anche la canon rf sembra incredibile ma ci credete che le vendite della 7 3 sono riaumentate cioè in un momento di stasi delle vendite della 7 3 alla al lancio della z6 e della canon rf le vendite sono risalite della sony quindi questo si fa capire che probabilmente gli utenti hanno confrontato comparato i modelli e hanno capito e hanno quantomeno hanno scelto sony anziché nikon e anziché canon ok quindi questo è stato chiaramente un elemento importante se per ipotesi non ci fosse stata la sony a7 3 o la sony a7 r3 beh io credo che insomma la nikon z6 avrebbe avuto un successo decisamente superiore poi cosa ragazzi io continuo a dire e fui molto duro ripeto un po caustico alla presentazione del del sistema z da parte di nikon e devo dire devo dire al verità anche da parte di canon poi con il suo rf fare un prodotto dopo 8 9 anni che tu sei latitante nel mondo mirrorless che l'hai criticato eccetera eccetera ok ti sei ricreduta hai capito che se non entravi nel mirrorless era in qualche modo ti stieri tagliato insomma le gambe da sola no ok mi ci sta bene mi posso capirlo ma ti presenti all'appuntamento con un 24 70 f4 e un 35 1 8 cioè con due lenti di cui una al 24 70 seppur un'ottica vignitosissima per il tipo di ottica che è ma comunque non ti puoi presentare all'appello con questo tipo di prodotti perché cioè vieni vieni bastonato dal mercato dopo nove anni che tu insomma sei lì che aspetti ma mettiti avanti quantomeno esci con le ottiche classiche 24 35 50 85 135 con i soli due zoom e 24 70 già avevi un corredino interessante che copriva un po tutto ok esce subito con un corredo pronto fai capire al tuo potenziale cliente dice ragazzi abbiamo aspettato ma alla fine siamo arrivati siamo arrivati credendoci siamo arrivati con una nuova baionetta perché abbiamo ripensato in toto al concetto di mirrorless abbiamo capito al 100 per cento le potenzialità del mirrorless e oggi ci presentiamo con due modelli di macchina interessanti e un parco d'ottiche che già oggi chiunque vuole fare il passaggio a z7 a z6 e quello che vi pare se è pronto per utilizzarle al 100 per cento con le sue ottiche invece no ti presenti con un adattatore perché hai sempre la paura che poi dopo non vendi più le ottiche reflex eccetera eccetera che tra l'amore del cielo funziona abbiamo testato funziona ma che comunque non ha convinto è così è la verità non ha convinto ed è un peccato ripeto perché la z6 ragazzi la z7 sono due ottime ottime fotocamere quindi questo è stato un altro elemento perdente così come nikon purtroppo purtroppo non ha mai investito veramente creduto veramente nel video io lo dico da un po di tempo non sono un videomaker non sono appassionato di video però riconosco che il video è un elemento chiave per le vendite di una fotocamera purtroppo a un videomaker se tu gli dici quali sono i primi marchi che ti vengono in mente in ambito video ti diranno sony panasonic canon nikon non c'è il cosiddetto top of the mind cioè non c'è nella testa dei videomaker non c'è questo prodotto c'è fuji è entrato più fuji che nikon e nikon c'è la z6 an 4k un 4 2 2 10 bit esterno di registrazione ha un autofocus interessante anche in modalità video è stabilizzata ha delle caratteristiche interessanti ma non così diciamo mature da spingere anche un potenziale come dire video maker ad acquistare la nikon z6 piuttosto che la sony piuttosto che panasonic e così via e questo è stato un altro demerito a mio avviso quindi oggi le mirrorless sono prodotti ibridi che ci piacciono sono prodotti ibridi video e foto devono convivere a livelli alti poi ci può essere un prodotto specializzato per uno specializzato per l'altro ma devono in qualche modo convivere questo è un elemento importantissimo e l'ultimo fattore chiudo il video secondo me i nikonisti cioè l'ufficio marketing di nikon ha sottovalutato forse diciamo col seno del poi è in base alle vendite gli nikonisti stessi che si sono dimostrati o più lucidi o più tradizionalisti scegliete voi il termine di quanto forse loro si aspettassero cioè il nikonista non non abbracciato subito come dire con calore a braccia aperte questo nuovo sistema anzi è stato piuttosto freddo piuttosto scettico e da una parte lo capisco perché perché loro nel mondo reflex avevano già una 750 che era diciamo l'alter ego reflex della z6 comunque molto valida avevano già un 850 per la z7 come competitors interno che comunque andava bene quindi se io ho comprato l'850 io nikonista non è che vado a comprare la z7 che cioè che me ne faccio cioè non mi serve fondamentalmente se ho una 750 sì qualcuno può pensare ok prendo la mirrorless perché un pochino più compatta ma fondamentalmente siamo lì e poi che cosa abbandono tutte le le ottiche che ho che le posso utilizzare ma comunque la macchina non è completamente bilanciata ci sono stati problemi insomma legati al a volta anche al flare insomma qualcuno è qualcuno elenti morale della favola il nikonista non è stato convinto devo dire che oggi finalmente il sistema z vedo che comincia a essere apprezzato e riconsiderato merito anche dell'ultimo firmware 2.0 sono sbaglio adesso siamo che ha migliorato l'autofocus continuo riconoscimento dell'occhio insomma ha migliorato molto le cose quindi io mi auguro che nikon abbia il successo che merita che l'azienda possa riprendersi completamente perché un marchio che mi piace molto che che stimo e mi auguro che la z6 e la z7 che pur rimanendo degli ottimi prodotti siano come dire il trampolino per dei prodotti è un con una concezione proprio di sistema mirrorless più maturo ecco questa è la mia opinione mettetemi un like fatemi sapere soprattutto la vostra opinione in merito a questo prodotto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi